Per tutto il mese di ottobre, nell'ambito della campagna Ottobre in Rosa, il centro gestionale screening offre numerose visite gratuite, senologiche e mammografiche, volte alla prevenzione del tumore al seno. Per sensibilizzare il tema della prevenzione si è giocato una partita di calcio denominata un calcio ai tumori, organizzata dal centro gestionale screening dell'ASPE di Caltanissetta. Nasce dall'idea di unire sani stili di vita, quindi lo sport che tutti noi dobbiamo praticare per migliorare la nostra qualità di vita e di screening, quindi gli accertamenti di prevenzione secondaria, unire prevenzione primaria e prevenzione secondaria. E quindi noi operatori sanitari in primis ci facciamo portavoci di questi che sono sani stili di vita e aderiamo alle campagne di screening.